Nuove tecnologie per un futuro digitale. Da un po' di anni la formazione ha adottato un nuovo modo di comunicare. Alle telecamere di TV City, Michele Langella, esperto nel settore della formazione telematica. Come è cambiato questo settore negli anni? Ormai tutti, scuola e università, hanno abbracciato le nuove tecnologie. Questo per garantire il diritto allo studio, perché solo attraverso il diritto allo studio ci sarà un innalzamento culturale, un innalzamento del benessere e una riduzione delle frizioni sociali. Anche i tecnoscettici oggi hanno gettato la spugna. Oggi il modo di fare formazione è cambiato, ma qual è il vero rischio di una didattica telematica? Prima si parlava di vecchi anfiteati del sapere refrattari all'innovazione, al digitale, all'industria 4.0, a quelle che erano i nuovi linguaggi ibridi e contaminativi. Oggi non è più così. Sicuramente il garantire il diritto allo studio e una didattica in via telematica a tutti è stato poteroso, ma dall'altra parte per poter fare una buona didattica a distanza c'è bisogno di una tecnologia tale da permettere agli studenti di avere una didattica sia elogativa che interattiva. E inoltre abbiamo necessità di rispondere a quella che è la problematica del digital divide. Ci sono ancora pezzi del nostro paese in cui non abbiamo collegamenti veloci ed adeguati per poter garantire appunto questo trasferimento del sapere. Com'è cambiata la formazione telematica con questo tempo, questo periodo di pandemia? Sicuramente questa pandemia, questa crisi ha portato a tutti ad avere un approccio molto più fluido verso la tecnologia ed è per questo che sia docenti che discenti devono riformare quelle che sono le proprie competenze per poter affrontare al meglio quelle che sono le sfide del futuro. Purtroppo in Italia la formazione non è vista come un investimento, ma è vista come un costo. Si fanno tanti programmi sull'innovazione tecnologica, eppure si investe poco oppure nulla. Il concetto di digital transformation deve investire non solo le aziende, ma anche i lavoratori della pubblica amministrazione e della pubblica istruzione. Poiché si può dire tutto sul futuro, ma che non è già scritto, scriviamolo bene insieme.